Un colpo da professionisti studiato nei dettagli, dice la polizia. Riuscito solo in parte perché l'arrivo delle volanti, chiamate da una guardia giurata, ha mandato in fumo i piani dei rapinatori che puntavano al cavo blindato e invece sono fuggiti solo, si fa per dire, con 150.000 euro. L'organizzazione dell'azione di stampo militare fa pensare che il comando armato, composto da 15 persone anche di più, avesse le idee chiare su cosa avrebbe trovato all'interno della sede dell'istituto di vigilanza Secure Center, che si trova in strada Vitorosa, nel quartiere San Pio di Bari. La banda armata, con fucili semiautomatici e mitragliette, per coprirsi la fuga non è esitato a dare fuoco a tre camion posizionati sulle principali vie d'accesso al quartiere. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla squadra mobile, i banditi sono arrivati a bordo di due Audi davanti all'ingresso dell'istituto di vigilanza e con un camion ne hanno sfondato la sala cinesca. Sono entrati in un precavò dove hanno bloccato il vigilante, che però è riuscito a chiamare aiuto, e con la fiamma ossidrica hanno aperto un armadio che conteneva 150.000 euro, una parte dei quali ritirati poche ore prima da una sala bingo. Le vedette hanno avvisato i complici dell'arrivo delle volanti, della questura. I banditi hanno così afferrato i sacchi con i soldi e sono fuggiti senza riuscire ad accedere alla cassaforte, che era il vero obiettivo della rapina. Ma per sfondare il cavo avrebbero avuto bisogno di tempo ed esplosivo. Anche la fuga era stata organizzata bene. Tre camioni erano nascosti tra gli ulivi. Al momento opportuno sono stati portati sulla strada rompendo muretti, marciapiedi e piegando indicazioni stradali e semafori. Poi i mezzi sono stati incendiati per impedire l'accesso al quartiere. Dato alle fiamme, anche il camion usato per sfondare la sala cinesca dell'Istituto di Vigilanza. È possibile, ma da scuola mobile sta ancora mettendo insieme i tasselli, che si tratti di rapinatori arrivati non da troppo lontano, sicuramente italiani. Al momento le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno fornito solo indizi per ricostruire la dinamica dei fatti, ma non informazioni utili a risalire ai banditi, che erano tutti incappucciati.